Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi ai venerdì dell'Arsino. Oggi siamo qua per parlare di arte, l'arte e la ricerca artistica, prospettive per una creatività da ripensare. Questo è il titolo che ci siamo dati, è un privilegio come vedete, siamo molto felici, è stata una gioia rivederci dopo tantissimo tempo. Ho grandi ospiti stasera, comincio dalla mia sinistra, il regista Simone Amendola, l'attrice Barbara Folchitto, la musicista, cantante, artista da Montellanico e l'artista Alessio Ancellari. Quindi faremo un dialogo a partire da attacco all'arte, ma soprattutto anche cercando di agganciarlo a questo anno strano, purtroppo drammatico e strano che abbiamo visto e che abbiamo vissuto e in cui siamo ancora immersi. Vi ricordate proprio un anno fa, era marzo, sui terrazzi le persone cantavano improvvisamente all'inizio del lockdown, c'è stato uno shock, ma anche immediatamente recuperare un tempo proprio, visto che c'era apparentemente più tempo per l'arte, la letteratura, guardare film e sembrava, o almeno ci è sembrato di vivere, almeno inizialmente, che ci fosse una maggiore consapevolezza diffusa dell'importanza dell'arte, perché non avremmo sopportato quest'anno di isolamento sociale se non ci fosse stata l'arte a arricchirci, a alimentarci interiormente, a sollecitarci con domande su quello che stavamo vivendo più intimamente, invece che in maniera superficiale tutta proiettata troppo all'esterno. Però mi sono domandata anche da giornalista, appunto, partendo dal libro, dall'attacco all'arte, ma anche per il lavoro settimanale che facciamo con l'EFT, è cambiato davvero qualcosa nella consapevolezza delle persone e della politica? E qui arriveremo un po' alle note dolenti che stasera potremo toccare. E poi la cosa per me interessante è che, appunto, avendo fatto una ricerca sull'iconoclastia, su come è stata considerata nei secoli l'immagine in epoche diverse e in culture diverse, vedendo, osservando l'attacco che hanno subito le immagini artistiche da parte, come sappiamo, della religione, ma anche in tutte le dittature, che cosa sta succedendo oggi? E poi, che sta succedendo agli artisti? Perché nel libro Attacco all'arte, il primo capitolo è dedicato all'arte preistorica. Ecco, lì accadeva che gli artisti si isolavano, ma si isolavano a tal punto nel paleolitico da andare a cercare dei cunicoli il più sotterranei possibili, pensiamo a Altamira, per rappresentare il proprio mondo interiore, creare delle immagini che prima non c'erano. E lo facevano anche in altri spazi collettivi. Però quest'idea appunto di rintanarsi, di rifugiarsi in un altro buio, quasi a voler ricreare, diremmo, la dinamica e la nascita, far apparire delle immagini al buio, quella era una scelta, una scelta deliberata. Gli artisti nella storia si sono spesso, soprattutto gli artisti, i pittori, si sono spesso isolati per una propria esigenza di ricerca. Ma quest'anno non è stata un'esigenza, è stata un'imposizione. Quindi come si reagisce a questa cosa? L'altro giorno, chiacchierando, ci tornavano in mente anche degli esempi molto brillanti nella storia. Andò sull'Efto, per esempio, sono apparsi una serie di articoli che hanno raccontato questo, in particolare Francesco e Domenico Farnioli ci raccontavano di come alcune persone creative nella storia abbiano reagito in maniera straordinaria. Ricordavano la storia di Newton che durante la peste nel 1666 lui stava nel suo giardino, un po' per lui, che insomma altri non avevano la stessa dimensione ricca di vita, nel suo giardino e a un certo punto osserva la mela che cade e comincia a pensare alla legge gravitazionale. Ora la metto lì molto semplicemente. Oppure ricordavamo un artista straordinario come Pontormo il quale era, anzi era accusato di essere un misantropo e spesso si isolava a Pontormo e tirava su anche, toglieva le scale, non si faceva trovare, ci sono questi racconti che lo cercavano ma lui si isolava per un'esigenza sua creativa. E poi quando arrivò alla peste si trasferì alla Certosa del Galluzzo e lì realizzò una delle sue opere più belle, più forti da un punto di vista artistico, insomma quasi arrivando all'essenza della cosa, della sua arte, una sintesi profonda. Se vogliamo allora una delle suggestioni che vi vorrei forre è proprio questa, perché questo rapporto dell'artista con la solitudine, quando è volontaria, oppure quando invece addirittura gli veniva attribuita, perché tornando sempre al caso di Pontormo, veniva detto che era un misantropo, che stava male, che era pazzo e che per questo, questo nesso di cui nel libro parlo tantissimo, falso nesso di arte e pazzia, quasi a pensare che l'artista abbia bisogno di una dimensione di pazzia per creare quando noi sappiamo che è l'esatto opposto e anzi forse proprio questo anno ce l'ha dimostrato di più, perché purtroppo le persone che avevano già fragilità proprie hanno visto che stanno male, hanno visto purtroppo molto peggiorata la propria situazione, sappiamo dalla cronaca che i casi di malattia, di ragazzi che si tagliano, di anoressia, bulimia, insomma, sono purtroppo aumentati. E ha aumentato anche in maniera più generica uno stress, uno stress reattivo da un trauma che comunque ci ha riguardato tutti. E allora comincerei con Ada. Come hai vissuto questo anno? A te la parola. Grazie. Grazie, grazie Simona, grazie alla Sinodoro per aver organizzato questa bellissima occasione, questa bellissima puntata sull'arte, insomma. E che ti dico, insomma, Simona, è stato un anno molto particolare, devo dire, questi due lockdown, insomma, un po' mi vedono, vedono il mio vissuto veramente molto diversificato, insomma, nel primo lockdown l'anno scorso per me è stato abbastanza complicato, nel senso che io non, essendo una musicista, essendo una cantante, insomma, anche il mio vivere l'arte, il mio esprimermi, è sempre molto legato a un discorso di rapporto, rapporto interumano, rapporto con i musicisti, rapporto con il pubblico, non sono una scrittrice, una pittrice, no, che forse vive in maniera un pochino più solitaria, anche la dimensione creativa. E quindi questo per me è stato, diciamo, un blocco, io ho vissuto un blocco vero e proprio, cioè, ho fatto molta difficoltà, cioè, molti, per esempio, amici studiavano giorni, ore e ore, durante il giorno, io ho fatto veramente molta difficoltà a studiare, ho ripreso, diciamo, anche lo studio, il canto, la dimensione anche progettuale, proprio quando il lockdown è finito, cioè, a maggio-giugno, infatti poi a luglio ho inciso il disco nuovo che uscirà. E devo dire, la cosa che sono riuscita, sì, il 7 maggio c'era questo disco che ho inciso a luglio, ma solamente a luglio io sono riuscita a pensare di rimettermi a lavorare, rimettermi a creare, a pensare a qualcosa, perché, come giustamente dicevi te, non è stata una scelta. Cioè, la dimensione creativa la vivi se c'è una libertà. Quando è una libertà, quando è una scelta personale, non può essere una dimensione di costrizione, oppure sì, può essere anche un elemento di resistenza. Io non l'ho vissuta così, per me è stato diverso, ma quello che ho fatto in quei mesi, per me è stato proprio, è stato molto importante, perché io ho lavorato, diciamo, a livello politico, per cui ho cercato di resistere a questo momento di difficoltà, non da artista, ma occupandomi dell'arte in maniera artistica, però in maniera politica. Ecco, quindi ho creato, si sono create veramente tantissime opportunità, abbiamo creato un gruppo più grande nel mondo del jazz, c'è stato veramente un movimento importantissimo anche di consapevolezza e quindi anche di lavorare su quello che è lo stato dell'arte, lo stato dell'artista, il non riconoscimento, la non valorizzazione a livello politico. Per me è stato, e continua a esserlo, ma insomma, ormai sono otto anni che io occupo metà della mia vita su questo e quindi mi sono data da fare ancora di più proprio perché vedevo che in quel momento di lockdown gli artisti erano completamente dimenticati. Mentre invece, come giustamente dicevi te, come noi sappiamo, noi e l'arte è stato veramente, e è una dimensione importantissima, non solo per chi fa arte, ma anche per chi ne fruisce, per chi ne gode. Insomma, quindi brevemente poi, insomma, ecco, tanto per darti. Mentre questa seconda fase è già diversa, già forse il vaccino ci fa vedere una luce e quindi forse ho ripreso a studiare, ho ripreso sicuramente, mi sto vivendo questa chiusura in maniera forse più forte, in maniera più attiva anche dal punto di vista artistico e non solo politico, insomma, ecco. Un fatto privato, ma forse lo possiamo dire, facciamo da testimonial al vaccino. Al vaccino, tu ti sei vaccinata? Sì, io mi sono vaccinata a AstraZeneca e la sera è successo quel casino incredibile. Impegno politico. Io mi sono messa a letto perché, dice te, non si sa mai, mi metto a letto. E però, insomma, a parte un po' di febbre, poi sono stata benissimo. Quindi veramente andiamo oltre, capiremo perché ci sono tutte queste strani movimenti intorno ai vaccini, però vaccinatevi perché è l'unica possibilità di uscire da questo momento. Non riusciremo a vedere la luce perché io adesso forse posso essere più tranquilla, ma se non lo saranno tante altre persone intorno a me, non saremo tranquilli nessuno. E quindi, vacciniamoci. Grazie Ada. Altro che totti, molto meglio. Alessia, come l'hai vissuta nel tuo studio? Il tuo antro. Insomma, sono stati dei giorni iniziali davvero un po' così, no? Un po' scioccanti, un po' così all'improvviso. E all'improvviso era proprio il secondo giorno, cioè quindi è cominciato lo scorso 9 marzo e il giorno dopo ci arriva un'email, per esempio, mi arriva questa email da Albumarte, che è uno spazio no profit, indipendente, in cui subito, immediatamente, ci invita a pensare ad un'opera su questo tema, all'improvviso. Cioè, quindi, in qualche modo ci è stato chiesto proprio di reagire. L'esposizione poi è stata, ovviamente, sui canali social, quindi su Instagram e Facebook. e lì è successo che il tema su cui bisognava riflettere era la propa casa. Perché tu stavi all'interno di casa e c'era soltanto la visione dall'interno all'esterno. e io mandai Fenice, che era quest'opera che feci anni prima per l'esposizione sulla pittura, in cui era proprio fatta con, eccola, con due porta, con due telai di finestre, tessuti e luce, insomma, come se appunto dall'interno vedevo attraverso l'infisso, attraverso le tende dell'infisso, questa luce che veniva dall'esterno e si intitola appunto l'ottimità e Fenice era il titolo. Proprio perché bisogna risorgere, no? Bisogna sempre rifarci nuovo. E quest'opera, tra l'altro, era stata fatta per parlare di pittura ad una mostra, a un castello di Rivara. Pittura che poi invece non c'è pittura lì, però è un'immagine pittorica perché aveva tutte le componenti della pittura, quindi la luce, la linea, colore e forma. E niente, allora, la reazione è stata per forza immediata. Poi tra l'altro ho saputo che un'università di Oxford o l'intorno, non mi ricordo dove, sta facendo proprio la tesi su questa esperienza di questa collettività di artisti che siamo stati, penso, 40, 50, non mi ricordo quanti, che hanno risposto subito all'invito di albumarte. E lei sta facendo questa tesi, pensa, ed è stata la prima esperienza in Europa, proprio di reazione. Quindi il pensiero, tu dici, che è successo, no? Il momento in cui, ecco, io sono stato obbligato a pensare, a elaborare in pochi giorni subito, un pensiero, un qualcosa, e invece poi nel tempo, comunque è stato un tempo sospeso, ah, la stessa cosa anche una galleria di Madrid mi ha chiesto di riflettere su questo tempo sospeso, e nel frattempo ho lavorato a delle opere completamente nuove rispetto a ciò che faccio sempre, e ho lavorato sulla carta vetrata, così, non so perché, mi è venuto in mente questa carta, questi fogli molto grandi, perché ve li faccio dare da un'azienda che sta su in Lombardia, e la carta vetrata, poi mi è stato detto, tra i miei compagni, appunto, io dico, ma perché stai fare questo? Boh, non lo so, mi viene da fare così. E invece era il discorso di togliere ciò che sta più in superficie, le scorie, e forse questo tempo sospeso ha riflessione su un tempo interno, un tempo interno che va raggiunto, va elaborato, e di conseguenza questa carta vetrata che toglie ciò che poi è vecchio, non serve più, ecco, perché alla fine dell'emergenza, poi emergenza, è un anno che stiamo in emergenza, forse bisognerebbe cambiare il nome, e praticamente alla fine bisognerà ripartire in un modo completamente nuovo, non pensare a tornare alla vita di prima, ma bisogna ripensare un po' tutto, ripensare il vocabolario anche dell'arte, o comunque di tutte le espressioni, appunto, dalla musica al teatro, e un'ultima cosa che ci tengo, è il fatto che finalmente, a seguito della pandemia, proprio perché artisti ed operatori del mondo dell'arte, hanno risposto coalizzandosi nel collettivo, cioè, infatti è nato AWI, Art Worker Italia, e in qualche modo stanno cercando di dialogare con le istituzioni, con la politica, non è facile, è stato redatto un manifesto, in cui sono firmatario ed invito a seguire le direttive, lì, insomma, perché ci sono degli aspetti che vanno dai curatori d'arte, i sovici dell'arte, alle gallerie, ai musei, e agli artisti, cioè, insomma, non è soltanto per gli artisti figurativi, o visivi, è un progetto interessante, e anche questo è tutta una forma collettiva. Allora, il discorso che facevi te, che in passato, insomma, l'artista tendeva a isolarsi, a stare per conto suo, appunto, citavi Pontorno, che andò insieme al sollievo preferito, al bronzino. Era lui che non rispondeva, ogni tanto, tirava su la scala e bronzino. E praticamente, c'è stato l'avvicinamento, c'è stato questo avvicinamento di artisti e di operatori, comunque, del mondo dell'arte, tant'è che, soprattutto a Roma, perché io sono tutto a Roma, ho visto che sono nate dei collettivi di artisti che condividono studio oppure condividono il filone di ricerca, e questo è importantissimo, e penso che sia la base per ripensare anche all'immagine dell'artista, che, appunto, come accennavi tu, va nel caos, va nella malattia, nelle cose, no, anzi, se stanno insieme, si forma questa resistenza, perché la situazione politica non vede... Sì, sì, esattamente, poi toccheremo anche questo tema. Poi va... Sì, sono d'accordo, no, io dicevo l'isolamento come dimensione creativa per cercare un'immagine interna, poi ognuno la dinamizza, no, nella propria maniera, e mi sembra molto bello questa cosa che dicevi, che, come dire, quasi a voler reagire al distanziamento sociale e a cercare di riaffermare una propria umanità, una umanità d'artista, in fin dei conti, anche in situazioni veramente estreme, questo non riguarda l'arte, però, insomma, abbiamo raccontato sull'Efto questa storia di come nel campo di concentramento, quindi tocco un tema estremamente drammatico e che non ha nulla a che vedere con l'oggi, non voglio fare, paragoni troppo stretti che non avrebbero senso. Succedeva che alcuni internati si raccontavano i sogni, ci sono dei libri che documentano questa cosa, come a cercare di riaffermare una propria identità in un momento umano, in cui veniva annullata in maniera più feroce, più lucida, più spietata che la storia poi mai abbia conosciuto. Quindi questa importanza del collettivo è fondamentale, o pensiamo anche a Van Gogh, quando per superare la crisi cercò nella Casa Gialla di mettere insieme altri artisti perché pensava che in quel modo ognuno lavorando ha il proprio lavoro, ma ci potesse essere in qualche modo una dimensione di scambio, di rapporto, di stimolo, di confronto, qualcosa di irrazionale che in qualche modo non li potesse legare. Purtroppo quello fu un sogno finito male per come stavano forse le stesse persone che partecipavano a quella cosa. Quindi, Simone Amendola, come regista, tu invece appunto vivi del collettivo perché il cinema vive di una dimensione necessariamente collettiva. quindi come è stato questo tuo anno? Rito della mascherina. Sì, grazie di questo incontro, di avermi invitato. A differenza d'Alessio, nessuno mi ha chiesto di riflettere sul lockdown, ma ho riflettuto. e vabbè, appunto, l'altra volta parlavamo, l'ho detto, io ho vissuto, diciamo... Allora, tu dici l'altra volta lo ribelliamo ai nostri... Noi ci siamo incontrati, abbiamo fatto un incontro che è bellissimo e che non abbiamo registrato, quindi speriamo stasera di fare con voi ancora meglio. Sì, ci siamo un po' appunto confrontati, no? su... Sì, diciamo, un prologo a questo incontro è stato e quindi vi ho raccontato che io sono entrato nel lockdown il 9 marzo che il 5 marzo era uscito il mio film al cinema, quindi ecco, tre giorni dopo hanno chiuso i cinema e quindi ecco, diciamo, quindi una dimensione pubblica è una dimensione privata e però una ferita che devo dire è importante, è importantissima perché in qualche maniera appunto è come se uno cioè la sensazione che avevo io nel momento che riesco a portare il film al cinema è che le battaglie le conoscevo quindi erano anni che facevo delle battaglie per riuscire a realizzare a realizzarmi ma diciamo a portare fuori quello che realizzavo in qualche maniera questa cosa ha riazzerato tutto e quindi non solo cioè non era il problema del film che si interrompeva ma era proprio il problema che iniziavano delle battaglie nuove sconosciute proprio completamente sconosciute e questa cosa devo dire che per me è stata una cosa forte segnante appunto ma ecco forse mi sono trovato ad uscire immediatamente dal mondo dei boomer e sono entrato no il passaggio da facebook a instagram cioè il fatto appunto che le chiacchiere no le riflessioni quelle più complesse saltano e si va alla sintesi appunto a una dimensione di immagine una dimensione più ecco generazione z in cui no prima ti dicevo questa riflessione si vedono gli artisti con i tatuaggi sul viso no e ho sempre pensato che era il senso di un futuro che non c'è e e quindi in qualche maniera anche noi ci siamo trovati appunto che il futuro o almeno come lo immaginavamo le cose che ci portavamo dietro da prima spariva è sparito no comunque andava proprio ridisegnato e ecco tra l'altro ho portato delle immagini ma in onore al tuo libro perché in quei primi giorni diciamo di di lockdown mi è venuta questa idea appunto di lavorare un po' photoshop come se stavamo nella caverna e quindi ecco tutta una serie di graffiti presi appunto sia da quelli del delle grotte più importanti fino ad arrivare ecco a Bansky e Iorit quindi ecco ho avuto questa sensazione di ripartire no da un po' da zero con con le immagini e ecco ho sentito che profondamente che mi cambiava un po' cioè cambiando il paradigma da cui venivamo appunto trovandoci in uno completamente nuovo ho sentito che ecco che questa dimensione di sintesi mi mi rappresentava di più e io appunto sono abituato anche a scrivere per il teatro comunque quando ragioni su una storia cerchi sempre come prima cosa il conflitto cerchi di capire qual è il conflitto e la maniera di raccontarlo e invece in qualche maniera ho sentito subito che diciamo le immagini sintetiche più complesse corrispondessero di più al nuovo conflitto che non capivo e non potevo districare ecco mentre la narrazione è un po' districare un conflitto invece adesso il conflitto poneva delle domande non delle risposte almeno io non ce l'avevo e quindi ecco non sono riuscito a scrivere e sì soprattutto ecco per il teatro no in qualche maniera raccontare una storia è anche un po' conoscere il pubblico quindi sapere a chi raccontarla e nel momento che cambiavamo era tutto diverso no non hai la tensione giusta non sai a chi lo stai dicendo e dall'altra parte questa diciamo è la dimensione privata dall'altra parte c'è quella pubblica che credo che appunto siamo arrivati ecco molto piccoli all'appuntamento con la storia e non c'erano assolutamente le risposte e questa situazione ha messo in luce tutti i problemi che già c'erano ma che o non volevamo vedere o non vedevamo o non ce la facevamo a vederli a rispondere però in qualche maniera non è un caso se erano anni sono anni appunto in cui si è lavorato tantissimo sulla formazione del pubblico perché il pubblico non c'era più il pubblico il teatro era diventato ormai tipo l'opera ad un tempo e il cinema stava diventando come il teatro quindi almeno diciamo il cinema d'autore ecco e quindi era abbastanza cioè è stato mesi in cui tutti dicevano ah che bello quando andavamo a teatro ma io comunque l'ho fatto il teatro la gente non veniva e quindi ecco diciamo un po' delle complessità dei paradossi che vivevamo sono venuti alla luce e quindi anche per esempio rispetto proprio alla produzione teatrale una bulimia di produzione che però appunto di spettacoli che poi magari non riuscivano a girare perché non c'è il pubblico o non ci sono le date oppure ecco a me è capitato adesso rivedendo delle immagini di una tournée del 2015 dell'Uomo nel diluvio in cui praticamente andavamo no? bel poetiche vedi questi palchi vedi no? vedi il legno tiri emozioni cose che davi per scontate ma ragionavo pure sul fatto che molte volte andavamo in delle piazze con la data pagata dalla regione piuttosto che dal comune ma 12 persone cioè tante feste mancate tante occasioni mancate e quindi ecco diciamo c'è un discorso proprio politico c'è un discorso politico che che se nel teatro appunto se il teatro è segnato diciamo ormai da tanto tempo però anche rispetto al cinema è chiaro che non è solo colpa adesso delle piattaforme di questo mondo che chiaramente siamo stati isolati gli abbiamo dato più peso di prima però c'è proprio una dimensione di poco rapporto con la sala e quindi di tante generazioni che non hanno rapporto con la sala e con l'immaginario del cinema in sala che è strano perché appunto pensando che in tempo di guerra i racconti invece dei nonni che quando potevano scappavano al cinema in qualche modo per viversi eppure voglio dire rischiando rischiando la pelle no? e quindi evidentemente qualcosa è cambiato bisognerà riflettere su questo così come durante la guerra appunto c'era chi rischiava tra i sovrintendenti come racconto nel libro per salvare le opere d'arte Pasquale Rotondi 10.000 opere sono da solo riuscite a salvare insomma voglio dire evidentemente c'era il senso la percezione di questa cosa che non ha valore come si dice nel senso non è una merce non è una merce qualunque ma l'opera d'arte è un valore universale comunica valori universali che parlano a tutti che arricchiscono l'interiorità e quindi si capiva che questa cosa invisibile è un valore e tant'è che è stato costituzionalizzato e difeso e oggi questo lo si percepisce molto meno ecco Barbara Folchitto tu che oltre che attrice sei anche poi impegnata poi parleremo anche di questo insomma in una lotta molto molto importante qual è stato come è stato il tuo anno? allora intanto anche io voglio iniziare con la differenza di Alessio che ha avuto la media il giorno dopo e anche la differenza di Simone che era partito con qualcosa e gli hanno chiuso il cinema noi attori invece siamo di teatro siamo stati proprio scacciati proprio scacciati dal tempio mi verrebbe da dire scaricati e senza neanche la buona uscita della serie abbiamo chiuso che volete ma avevamo un contratto che durava magari un altro mese e due è chiuso è chiuso quindi proprio una ci siamo resi conto di una di un non ruolo di una non esistenza di un non essere no? e quindi quest'anno è stato un anno che lì per lì si è configurato come aiuto l'horror vacui no? cioè proprio è adesso che facciamo scaricati nei nostri ruoli e dai nostri luoghi non riconosciuti giustamente dall'opinione pubblica dalla politica ma anche dal pubblico perché in quel momento c'erano altre urgenze e necessità e noi che non sapevamo che fare ma neanche come rispondere e un po' sulla scena di quello che diceva Simone abbiamo iniziato a farci delle domande ed è vero che questo tempo ci ha stretti ancora di più gli uni agli altri anche tra di noi sono nati moltissimi gruppi che già c'erano effettivamente però adesso davanti all'evidenza del niente che avevamo davanti e dell'essere considerati niente ci siamo stretti molto di più gli uni agli altri e abbiamo cercato se non altro di trarre delle traiettorie di definire delle traiettorie più o meno comuni solo che poi che cosa è successo che in realtà il mondo della cultura è ampissimo cioè proprio è gigantesco già solo a questo tavolo siamo artisti di provenienze completamente diverse ma e con una professionalità profonda completamente diversa oltre al talento di ciascuno di noi questo lo dico perché a parità per esempio di due artisti che fanno la stessa cosa immaginiamo due danzatori hanno talenti diversi e quindi sono diversi anche loro all'interno del loro comparto quindi insomma una complessità pazzesca quindi abbiamo cercato sì di trarre delle traiettorie perché volevamo capire chi eravamo volevamo rispondere a ma chi siamo che cosa vogliamo non ci siamo detti un fiorino perché lì ma l'abbiamo detto anche quello perché abbiamo cercato di capire quali fossero un po' le esigenze ed è bellissima la cosa che avete detto dell'isolamento dell'artista per creare perché una delle risposte che abbiamo trovato è rispetto al chi siamo e che cosa vogliamo è ok che ruolo hanno gli artisti ok gli artisti osservano forse per questo che siamo scomodi forse per questo che veniamo scaricati per primi perché osservano la realtà osservano quello che hanno intorno e in qualche modo trasformandolo ne ridanno una una visione che poi diventa una visione condivisa una visione collettiva ma di tutta la società quindi di chi la fa e di chi ne soffruisce e questo è bellissimo però questa cosa va fatta un po' in isolamento no? perché ognuno poi ha bisogno di farlo appunto Simone magari punta l'attenzione su un aspetto io su un altro no? tu che scrivi figuriamoci chi dipinge ma anche chi chi fa musica no? si concentra su qualche cosa la osserva la elabora e poi deve creare però il tutto poi avviene in una forma collettiva che è bellissima cioè pure qui no? voglio dire siamo in cinque non è vero siamo dieci siamo dieci perché c'è Daniele c'è Olimpia c'è Valentina c'è Claudia e c'è Willy quindi siamo dieci persone quindi è una cosa che è fatta davanti e fatta dietro è fatta prima durante e dopo no? c'è anche questo fatto per cui dal dal pubblico noi soprattutto noi attori siamo esistenti quando siamo sul palco quindi quando siamo sotto contratto quando invece è proprio cioè ma fa parte della nostra carriera tutta la parte prima come dicevo prima dell'osservazione ma anche dello studio dell'elaborazione della creazione ma quella è il momento dell'opera d'arte quando sono lì già è fatta no? è già confezionata e va bene no? dico ancora quest'altra cosa poi ripasso al secondo giro che che cosa è successo quindi in quest'anno di horror che invece l'horror si è trasformato in un'opportunità perché perché si sono creati tanti collettivi e l'ultimo in ordine di tempo è proprio quello di cui faccio parte ho fatto parte di tanti altri prima ma adesso ce n'è uno in più nuovo il nuovo nato il mio nato che si chiama Presidi culturali permanenti che ha una storia troppo carina secondo me perché è nata è nato subito dopo l'ultimo dpcm quello di di Conte del 25 mi pare ottobre del 2020 che chiudeva per l'ennesima volta ma anche a ragione secondo me ma poi dopo ne parleremo teatri cinema a ragione dal punto di vista degli artisti non dal punto di vista dei fruttori del pubblico e quindi però noi ci siamo di nuovo trovati insomma senza lavoro e quindi ci siamo raccolti un po' col tantamme eccetera sul marciapiede dell'Argentina perché l'Argentina essendo il teatro più grande di Roma ma anche proprio italiano era un po' il luogo simbolo con le nostre rivendicazioni eccoci qua su un foglio a quattro scritto con i pennarelli a casa quindi avevamo delle cose sì sì vediamo pure gli altri le nostre rivendicazioni semplici ma profonde che insomma andavano un po' proprio a dire quello che volevamo e da lì però questo collettivo intanto mi fa piacere chiamarlo collettivo perché ha riunito al suo interno non solo artisti ma anche i tecnici lui è Michelangelo e danzatori nella foto di prima c'era Cinzia quindi eravamo veramente un collettivo di artisti di più espressioni diciamo e la seconda delle domande che ci siamo fatti rispetto a chi siamo anche che cosa vogliamo o possiamo fare è stata la creazione è stata una delle prime nostre cose ma ne abbiamo un sacco in cantiere ne abbiamo anche già fatte altre è stato scrivere definire e presentare perché sta andando in regione il programma di formazione retribuita e permanente per tutti gli artisti per tutti gli artisti non solo per gli attori e anche per la parte tecnica che prevede il riconoscimento come giornata lavorativa e contribuita quindi con i contributi delle giornate in cui gli artisti si formano perché gli artisti si formano sempre non è che io ho fatto l'accademia mi sono formata vent'anni fa trent'anni fa e ho finito di studiare questo non lo fa nessuno non lo faceva mia madre che era insegnante alla scuola e faceva i suoi corsi di aggiornamento non lo fa un medico non lo fanno assolutamente gli artisti che però si pagano quando va bene ci sono a Biennale di Venezia per esempio per quanto mi riguarda Napoli Teatro Festival fanno delle giornate di lavoro scusate di formazione gratuita ma molte volte ci paghiamo di tasca nostra e invece noi abbiamo un po' voluto ribaltare quindi questa intanto è una nostra cosa e volevo dirvela perché mi sembrava una bellissima bellissima grazie ad averla lanciata qui stasera insomma è chiaro insomma la politica l'avete tirata un po' in ballo tutti e questo è il punto insomma noi siamo rimasti in punto tutti un po' stupiti anche da quella parola uscita così scappata via dal presidente Conte che insomma che al certo punto ha detto gli artisti siamo grati gli artisti che ci fanno divertire ecco quindi appunto da una parte non ci aspettavamo molto di altro purtroppo perché da dove veniamo allora scusatemi se torno un attimo sul libro ma nella parte centrale del libro raccontavo proprio questo cioè come dal momento molto alto della costituzionalizzazione della tutela e dare questo valore che dicevamo all'arte cioè che ha scritto la costituzione aveva ben chiaro che l'essere umano non è fatto solo di bisogni materiali perché nel momento in cui costituzionalizza dice che appunto che l'arte l'articolo 9 che è una cosa assolutamente come diceva anche Ciampi il più originale di tutta di tutta quanta la costituzione c'era piena consapevolezza che progressivamente è andata smarrita ce lo siamo detti e qui c'è tutto chi volesse insomma fare un ripasso come dire c'è tutto il percorso dall'epoca di Andreotti Italia S.P.A al Craxi vi ricordate i giacimenti la cultura è come il petrolio De Michelis e poi così avanti avanti fino ad arrivare appunto a che come Renzi ha detto che i musei sono macchine per far soldi e con una ma al di là delle battute che cosa è venuto fuori si è fatta avanti una cultura che potremmo definire per brevità neoliberista che nega completamente il valore dell'arte la considera come una merce uguale alle altre altre al più un lusso che in tempi di crisi non ci possiamo permettere per cui anche di finanziamento della cultura vi ricorderete tutti l'epoca di Bondi che dimezzò il finanziamento al ministero e da allora non ci siamo più ripresi da questo punto di vista ma non è solo il discorso economico di quanto finanzio l'arte che pure è fondamentale perché in ambito se pensiamo alla ricerca anche l'altro giorno ci ricordavamo tra noi i criteri purtroppo di assegnazione dei fondi sono in base allo sbigliettamento e quindi questa è una valutazione quantitativa dell'arte e non qualitativa che non entra in rapporto con il contenuto che è spesso rivoluzionario che mette in discussione che spinge a fare una ricerca invece lo si guarda da un punto di vista di quanto fa cassa e questo è il modo per tagliare completamente ogni possibilità per la ricerca che se ricerchi in un campo nuovo è chiaro che devi avere un sostegno perché non è detto che ci sia una risposta immediata da parte del pubblico in termini di successo ci vuole lo sappiamo l'arte magari poi viene riconosciuta dopo alcuni lo stesso Van Gogh ci stavamo prima in vita non aveva venduto quasi niente no questo per dire allora questo vi vorrei domandare come si fa cioè come come agire su questo piano voi soprattutto Ada e Barbara hanno fatto un lavoro enorme in questo anno cioè il punto è come fare in modo che possa crescere una classe politica sensibile attenta colta e sappiamo che abbiamo invece anche in questo momento una sottosegretaria alla cultura che si vanta di non leggere libri Ada domanda insomma un domandone cioè io innanzitutto quello che penserei di fare in maniera molto provocatoria è stare una settimana in silenzio cioè silenziarsi completamente tutti gli artisti non musica né né cinema né teatro televisione zero solamente talk show e radio mute si parla e quindi a questo punto forse probabilmente molto provocatori però se avessimo la forza noi artisti di farlo questo sarebbe veramente importantissimo per far capire alle persone perché il problema è anche di mentalità comune per cui ci troviamo anche con una mentalità comune che dobbiamo combattere per cui ci troviamo finalmente a far capire che cosa è cosa significa vivere senza arte e quindi a quel punto nel momento in cui lo creiamo facciamo veramente rendiamo visibile quello che ormai è ovvio per cui anche tutto il discorso che tu fai Simona per me è veramente io sono cioè la cosa che mi fa veramente arrabbiare tantissimo è proprio questo svilimento dell'arte perché poi è considerato come intrattenimento come svago quando l'arte invece è ricerca e quindi tanto più la mercificazione dell'arte dell'artista è qualcosa di terrificante è proprio l'uccisione della creatività per cui si neutralizzano e si annientano e si distruggono qualsiasi tipo di ricerca che ovviamente significa anche sperimentazione significa anche cercare per cui significa anche come dire fare un viaggio quindi anche con degli step che sono tutti in costruzione è chiaro che deve essere qualcosa che parte da un'esigenza interna come deve essere l'arte e che arriva a comunicare quello che è una ricerca e che può essere anche la ricerca della persona che ovviamente gode di quest'arte nel momento in cui noi diamo e quantifichiamo l'arte a livello di merce e quindi diventa un discorso legato al mercato e la cosa è chiaro che si svilisce tutto e anche noi artisti la cosa che veramente è necessaria per noi è riuscire a rifiutare anche la nostra creazione legata a esigenze di botteghino per cui io faccio un progetto perché vende perché così io posso fare il concerto per cui lo posso vendere perché chi organizza lo riconosce quindi poi il pubblico arriva tutto il discorso della politica dell'evento sono cose terribili sono cose che veramente uccidono l'arte quindi creiamo questo vuoto e facciamo capire che cos'è l'arte che cos'è e quindi poi a quel punto ricostruiamo e una cosa ovviamente ci sarebbero tante cose da dire ma per girare un po' tutti i nostri i nostri interventi cioè è veramente necessario che noi in questo anno quello che abbiamo realizzato è la consapevolezza di chi siamo e di quanto non esistiamo e questa cosa qui c'è sempre stata ma forse noi è da parte nostra che ci deve essere veramente un'azione di forza mentre invece io ho paura e questa è la cosa che veramente mi angoscia è che finita questa pandemia noi ci ritroveremo ad avere delle disuguaglianze sociali terribili delle disuguaglianze culturali per cui è molto probabile che proprio per un discorso legato a questo neoliberismo noi ci troveremo che poi quello che accadrà è che andranno avanti quelli che già vanno avanti cioè le star quelle che io considero il 5% degli artisti che ovviamente meritano tantissimo che però ovviamente hanno un seguito per tanti motivi che non stiamo lì a dirceli però l'arte tutto il mondo artistico è formato il corpo da quel 95% di persone che non sono meno valide ma che per vari motivi hanno meno fama allora il problema sarà proprio ritornare far emergere e valorizzare tutto quello che è la grande varietà dell'arte la grande varietà delle espressioni e anche riuscire tra di noi riuscire veramente a creare dei collettivi anche lavorare nel dialogo tra le arti questo è veramente sarebbe molto importante quindi riuscire ad avere un'azione politica e quindi veramente fare anche proprio un lavoro di impegno cosa che per me appunto come dicevo sono otto anni ma quest'anno lo è stato anche di più perché con tutto il jazz italiano c'è la federazione ma abbiamo anche voluto dialogare con le altre musiche fare questo ma nello stesso tempo anche fare quello che un po' diceva anche Alessio e dicevano anche gli altri lavorare proprio sul piano creativo opporsi a questo svilimento dell'arte e dell'artista questo lo ritengo proprio un dovere di ognuno e anche un dovere di chi va ad ascoltare musica al teatro andate ad ascoltare uscite per andare a conoscere quello che non conoscete le artisti che non conoscete perché è importante che la curiosità sia sempre molto molto viva molto vivace perché questa è l'unica cosa che ci rende vivi la curiosità è andare verso a conoscere lo sconosciuto quello che non conosciamo riusciremo ad avere delle sorprese straordinarie grazie Alessio un cilai sì il discorso duo e anche il suo insomma sono tema gigante ma attualissimo che deve metterci sull'attenti oggi perché l'invisibilità dell'artista è perenne cioè sta sempre lì dietro l'angolo e comunque c'è proprio questa negazione della figura dell'artista e poi non capisco perché perché poi alla fine lo studio che hai costa le bollette le paghi le tasse anche paghi perché comunque c'è partita IVA con codici ad eco un po' disparati che però nei ristori non ero per esempio contemplato creazioni artistiche no letterarie artistiche non era contemplato e penso che sia proprio di oggi invece il decreto nuovo che c'era tutta nel pomeriggio forse era dicevano se forse arrivava qualcosa e anche per il mondo della cultura poi ci racconterà poi ce lo racconti Barbara allora il discorso è cercare un linguaggio nuovo cioè un vocabolario forse nuovo per dare l'identità all'artista cioè no per dargliela perché c'è l'ha venderla visibile che non è che non c'è l'arte ma anche nella cultura più capillare cioè insomma anche nelle persone che non si interessano di arte o di politica o di temi sul sociale cioè l'immagine dell'artista spesso è quello che sì va bene ma per il lavoro che fai cazzo io mi sveglio alle 6 e mezza 7 tutti i giorni segno e stampa cose poi fai a studio fai stai lì a studio magari non fai niente però aspetti un momento non lo so la solitudine che però è anche cioè la solitudine ce l'hai anche se stai in compagnia cioè e anche se hai altre persone intorno se devi creare se ti viene le metti un po' tra parentesi non so se spariscono proprio perché poi sono lì però insomma le metti tra parentesi quindi insomma ripensare ad un vocabolario completamente nuovo e penso che l'intervento di tutte queste associazioni Barbara e anche con Mibact forse vi state muovendo nella risposta no non lo so no penso che il consiglio superiore si lavora insomma spero che con tutte le le proposizioni che vengono dai pari mondi dell'arte ci sia una risposta anche solo in termini fiscali giuridici sociali già questo potrebbe dare l'identità un po' più valevole cioè anche nel mercato che è vero il discorso che nel momento in cui tu pensi solo a fare delle opere o delle composizioni così possono essere sia di trammaturgia o di musica nel momento in cui fai delle composizioni ovviamente non pensi alla vendibilità o alla diffusione l'importante è che l'artista se è artista fa emergere un'immagine dall'interno all'esterno per emergenza poi il mercato esiste in conseguenza uscire fuori dal discorso del neoliberismo significa anche dare mettere in cima alla cuccagna il nutrimento che è la fantasia non è più un discorso del salame o il cacio cavallo perché il mondo dei bisogni va bene più o meno sono soddisfatti e dovrebbero essere soddisfatti per tutti perché l'essere umano deve andare a cercare tutto il mondo delle esigenze e uscire fuori dal discorso che nella ragione c'è il sommo oppure appunto fare un po' una critica al pensiero illuminista abbandonando la ragione genera fantasia forse perché che forse nel sonno della ragione forse non ci sta proprio sto mostro forse ci sta un mondo di immagini che vanno riprese rilaborate che fanno parte del primo anno di vita non lo so però insomma questo qui mi piace pensare ottimisticamente insomma che ci sia l'identità dell'artista che corrisponda ad una consapevolezza che nell'irrazionale non c'è la malattia non c'è il caos ma c'è questa passione questo mondo di fantasia che arricchisce l'artista e arricchisce lo spettatore o nel confronto con gli artisti perché anche se stanno insieme è rubare a volte uno si ruba ma non si impoverisce mai ma insieme si si resiste e si va avanti e si vede il giorno dopo che succede grazie Simone a me è venuta prima è venuta in mente una battuta mentre parlava Ada appunto dei concerti così spero che riprendano presto perché quest'anno si sono messi a fare i registi Gabbani Paradiso quindi ecco spero che riprendano presto i concerti così ritornano al lavoro loro e no beh certo questa cosa della politica è centrale e ecco quello che quello che dico è che quello che ho notato in tutti questi anni è che i politici pensano di essere loro importanti per noi e non importanti per loro esatto e io non so appunto se romanticamente immagino che negli anni sessanta la cosa era diversa e no che comunque hai un po' la sensazione che un dialogo ci fosse ecco che comunque un dialogo di ricerca ci fosse e oggi invece ecco la sensazione è completamente opposta loro sono utili a noi quindi ti danno i soldi per fare le cose quindi il ricatto diciamo lo scacco matto è totale è un po' lo scacco matto del diciamo del capitalismo ecco senza usare parole troppo grandi però è la verità quindi sicuramente in questo anno la cosa che ci è cambiata completamente è il rapporto col tempo noi siamo condannati al tempo perché le cose che facciamo ci danno da mangiare le cose che non facciamo non ci danno da mangiare quindi siamo proprio legati e siamo sotto scacco del tempo e della produttività invece in qualche maniera l'abbiamo messa tra parentesi abbiamo diminuito un po' i sensi di colpa di quando non fai le cose perché questo è quello che viviamo pensi appunto ti viene un'idea la segui però poi dici oddio se non è il cavallo giusto perdo un anno quindi noi viviamo questo ecco e poi è legato anche al al sostentamento perché poi investi su un progetto e ci paghi l'affitto se va bene se no ti devi inventare un'altra cosa e quindi ecco aver cambiato un po' il senso del tempo e quindi aver accettato diciamo con delle pause ecco con un tempo diverso forse un po' ci può sottrarre a ricatto ecco qui ci posso sottrarre un po' a ricatto perché chiaramente prima non ce ne rendevamo conto e anche noi no come tutti siamo nel cioè cadevamo nel nella ruota del criceto che corri vai e chi arriva primo sembra che prende qualcosa ma in realtà è solo più stressato e quindi ecco è questa che credo che sia un credo che sia una grossa possibilità ecco davanti appunto a a tutte le le difficoltà però ecco una risposta nuova in questi termini credo che sia possibile ecco Barbara allora bisogna starli addosso con la politica non bisogna mollarli più io mi sono resa conto che quest'anno è stato un anno che ci ha reso un po' più consapevoli certo c'era chi lottava da prima però molti dei miei colleghi proprio per questo fatto noi a marzo abbiamo messo su una chat su telegram che non sapevo che esistesse ma è benvenuto pure telegram sulla quale eravamo due se non tremila su un'unica chat e però però tante persone tanti colleghi tanti colleghi si sono messi a studiare si sono interessati si sono interrogati come dicevo prima e hanno iniziato veramente a tirare sulla testa e a dire giustamente come diceva Simone un momento noi scusate ho dato una botta al micro noi serviamo a voi non voi a noi perché poi si è creata anche questa consapevolezza certa che la politica non sa non sa perché noi l'anno scorso abbiamo avuto prima il primo il primo bonus per 30 giorni lavorati nell'anno precedente ora diciamo la verità 30 giorni non sono niente qualsiasi altro lavoratore avrebbe detto ma belli ma va a lavorare io lavoro 250 300 giorni di più altro che 30 giorni tu con 30 giorni no non bastavano abbiamo ottenuto i bonus con 7 giornate lavorative dell'anno precedente e questo che vuol dire non che noi non lavoriamo che c'è un nero sommerso gigantesco e nonostante fosse uscito questo dato non è che la politica fa oddio mio cavolo ci sono 300 mila non come ha detto Pannofino a Sanremo nel mega show che siamo 10 mila siamo 300 mila esatto quindi c'è anche questa non conoscenza forza colleghi cercate di studiare di più di stare dentro appunto invece di dire ops ci sono 300 mila di lavoratori lavoratrici cioè gente che occupa quegli spazi creativamente cioè portando e creando cose utili e necessarie poi capiamo nella costruzione del linguaggio nuovo che cosa vogliamo dire che ops gli bastano 7 giornate per ricevere un bonus forse qualcosa non va eh non va ma non va neanche allo Stato perché noi a quel punto non possiamo pagare le tasse o meglio non noi ma i nostri datori di lavoro insomma c'è tutto questo circolo vizioso terribile e poi quindi stargli addosso stargli addosso alla politica essendo noi più consapevoli studiando di più proprio a testa alta e poi un'altra cosa una cosa che mi piace tanto dire è che è bellissima la provocazione che lanciava Ada ok basta tutti fermi tutti zitti non c'è più niente però è venuta fuori da una di questi presidi culturali show che facciamo di cui parlavo l'altra volta che sono queste piccole trasmissioncine tipo Maurizio Costanzo show ma li facciamo noi presidi culturali show c'era ospite questa professoressa dell'università di Trieste che ha detto questa frase che io proprio sono impazzita e lei ha detto l'arte pensa e ho pensato e poi le abbiamo suggerito ma certo perché fa pensare no 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 l'arte pensa e questo vuol dire che pensa a prescindere da noi a prescindere da noi una canzone quella viaggia attraverso i tempi e io posso ascoltarla o non ascoltarla ma se l'ascolto mi fa qualcosa mi provoca qualcosa un verso che ascolto una statua equestre davanti alla quale passo attraversando una piazza e questo è magnifico allora mi fa pensare quale potrebbe essere la ricetta la ricetta è dire oh pronto sveglia allora politici attenzione la cultura non è una cosa marginale di intrattenimento assolutamente non solo non è solo anche se siamo tutti d'accordo che serve a ricostruire un tessuto sociale non è solo identitaria per carità poi siamo italiani cavolo fortissimo certo non è solo visione non è solo riuscire a far pensare massa critica tutto a posto tutto a posto certo la cultura è per quanto mi riguarda è il centro è il motore di tutta la società è il motore dal quale poi si muovono gli altri settori per cui si ragionava sul fatto che se io metto al centro la cultura e metto al centro quello che dicevo prima ovvero questi osservatori gli artisti che osservano la realtà in qualche modo la restituiscono vuol dire che guarda caso se nascono nuove facoltà all'università è perché sono in risposta a queste osservazioni a questo movimento di elaborazione che c'è stata di cui qualcuno si è preso la responsabilità di fare se la Fiat tira fuori una nuova macchina probabilmente la tira fuori perché ha capito che qualcosa si era mosso ma chi è che aveva fatto muovere quel qualcosa gli artisti che avevano osservato quindi politica la cultura al centro perché altrimenti la lavatrice nuova non la potete fare io la penso così l'esercito diciamo l'esercito no non ho capito gli artisti sono proprio diciamo il fiore all'occhiello dello Stato tipo i carabinieri no intendo dire che la forza dello Stato appunto deve essere la cultura e non mostrare le forze belliche ma le forze culturali le forze belle ma le forze belle e non belliche esatto perché l'arte pensa perché l'arte pensa nell'interdisciplinarità anche questo discorso del collettivo è fondamentale se vogliamo andare avanti ma certo perché poi la cosa meravigliosa è che nella nostra unicità ognuno pensa appunto in una maniera singolare no che però poi lo metti a disposizione però poi anche questo non lo metti mai a disposizione da solo cioè io non recito da sola anche se faccio il monologo non sarò mai da sola perché ho sempre bisogno del direttore delle luci ho bisogno di chiunque e chiunque di noi ma poi come dicevi tu la cosa meravigliosa è proprio questa collettività per cui un po' ti guardi un po' rubi ma sai che vai a far crescere la cosa che hai fatto tu e nel frattempo l'altro si sente tutto contento perché dice ah vedi vedi che sei stimolato da quello che gli ho detto io per esempio questa è una banalità chiaramente però è per dire che c'è veramente un fil rouge continuo non solo tra di noi e nel contemporaneo non solo al di là dei confini ma anche che parte da lontano nella storia e attraversa i secoli e chissà dove va perché appunto come dicevi tu prima molti artisti hanno venduto magari pochissimo in vita e poi sono diventati famosi dopo quindi chissà dove va va bene bellissimo allora dal pubblico segnalo intanto una domanda Maria Iamundo spero di pronunciare bene cognome è possibile secondo voi che le persone si siano allontanate da ogni forma di tipo di arte teatro pittura anche una sorta per una sorta di inaridimento personale dato dalla società che è un po' quello che cercavamo anche di dire la corsa alle cose materiali e il guadagno per sostenere i bisogni materiali ci ha fatto forse dimenticare che l'essere umano ha bisogno anche di arte cioè in qualche modo sfiniti e non ci dedichiamo alle cose belle e mi sembra giustissimo ma io credo che forse qui è venuto fuori anche qualcosa di più cioè nel senso che è una pulsione attiva non è semplicemente il fatto che bisogna correre per i bisogni materiali ma c'è chi da parte della politica esercita una pulsione attiva di annullamento usiamo questa parola di negazione dell'identità dell'artista perché è scomoda perché l'arte è irrazionale per definizione è la bellezza dell'irrazionale che quindi costringe a pensare in modo in modo in modo nuovo l'arte pensa anche non lo puoi cosa mette in movimento perché chi fruisce dell'arte fa un po' e si mette in moto in una propria ricerca in un percorso di trasformazione che può essere di crisi oppure no insomma a seconda della propria sensibilità e di quanto riesce a mettersi in discussione nel rapporto con l'arte perché appunto gli artisti non raccontano la realtà oggettiva materiale raccontano come diceva Barbara l'invisibile quindi ti svelano qualcosa che magari non avevi e te lo svelano anche con una forza emotiva fortissima e dirompente che invece il linguaggio razionale non ha e quindi questo come ci dicevamo anche in quell'altro incontro che facemmo contro il neoliberismo è forse l'elemento cardine allora per questo siccome ci siamo anche un po' purtroppo allungati perché è bello convertare vi volevo chiedere un po' così tipo jam session una proposta in positivo nel senso che mi piaceva molto quello che diceva Simone prima ah Simone poi una nostra ascoltatrice vuole sapere che fine ha fatto il tuo film quindi poi Daniela Fiorelli diccelo ecco la proposta positiva allora anche nel libro nell'ultimo capitolo non mi occupavo di una deriva dell'arte legata al postmoderno legata al tardo capitalismo che arriva addirittura a come dire richiedere un'estetica che è un'estetica di immagini aride piatte senza emozioni e così via allora questa pandemia potrebbe essere invece proprio quella cosa che diceva Simone cioè per questo per il fatto che ci ha costretti a rientrare comunque nel bene nel male il rapporto con le emozioni le emozioni anche il dolore la paura in maniera imprevista rispetto al nostro centrale può essere l'occasione in cui invece c'è proprio bisogno degli artisti per ripensare la società gli spazi della città dimensioni più di una città più a dimensione umana e dell'arte e della scuola e di chi fa ricerca e dei bambini e di chi non è razionale perché in questa pandemia abbiamo visto anche questo che chi non produce chi non produce è stato completamente dimenticato è un'altra delle tragedie che abbiamo vissuto e abbiamo sentito dei discorsi spaventosi di vaccino in base a Moratti in base al PIL le categorie queste dobbiamo vaccinare gli operai in fabbrica con accordi fatti aziendali quindi di welfare aziendale perché bisogna stare a guardare la produttività una razionalità spaventosa cinica e spaventosa abbiamo visto allora chi vuole parte gli artisti potrebbero veramente in questo momento come nei momenti alti della rivoluzione quando Majakowski almeno nella prima fase poi è finita male Ellie cercò di pensare diversamente la società cioè ora c'è bisogno della fantasia degli artisti per immaginare una società che non sia quella di come diceva Alessio di ritorno a quella normalità che invece era malata e non lo vedevamo prima parlavi appunto dell'ultimo capitolo tuo del libro questo è un punto da studiare non solo cioè non cadere nel facile nel veloce e facile perché se vai lì perché se il mercato è fatto da operazioni invece che d'arte delle operazioni finanziarie e lì poi gli artisti si sentono vittime però a volte diventano complici e non propongono quindi insomma artista non è che tu sei artista c'è il timbro devi continuare approfondire studiare e resistere sempre non è che sei artista no cioè non è che allora lì mi veniva in mente mentre stavi parlando dei contenuti della profondità e del e spero che in base a questa esperienza del tutto tempo sospeso ci sia stata la possibilità di riprendersi qualcosa di interno che c'è a che fare con un linguaggio poetico cioè una composizione di immagini fatti tipo una poesia che ognuno ha la propria cioè non è perché lì vai sui contenuti e non solo su il piatto che si vede tipo di macchitto e mi viene in mente una frase del compagno storico della Marina Jabramovic Ulay grazie che diceva che l'estetica senza etica è cosmetica cioè che al primo soffio va tutta via insomma in conseguenza insomma contenuti che non che siano forti resistenti ma con delle basi ben ben solide fatte da studio e ricerca e di rapporti e di interdisciplinarità insisto molto sul collettivo giro finale Ada insomma quello che penso è assolutamente vero Alessio credo che bisogna ritrovare approfondire sviluppare sempre di più una dimensione di ascolto di ascolto verso se stessi quindi proprio veramente di sentire e di ascolto degli altri insomma quindi questo è veramente importante riuscire ad aumentare una sensibilità forte e non avere paura cioè avere il coraggio di esprimersi questo è molto importante per noi artisti è importantissimo il coraggio è veramente la cosa che ci spinge l'artista è rivoluzionario cioè l'artista non è mai accomodante e non dobbiamo esserlo cioè altrimenti negheremmo il nostro essere e quindi in questo senso la ricerca è fondamentale riuscire veramente e io non perché diciamo tra le varie cose sono presidente di un'associazione che si chiama il GESVa Scuola ma credo fortemente in quello che è la sensibilizzazione veramente nei confronti dei bambini che hanno che hanno una fantasia e che quando non gli è stata distrutta riescono veramente a esprimere molto di artistico e quindi non come dire continuare un percorso far crescere queste nuove generazioni e sensibilizzarle sempre di più e loro già ce l'hanno questa sensibilità all'arte alla musica alla pittura alle immagini e quindi questo è veramente un lavoro importante partiamo dalla scuola partiamo dai bambini partiamo dai nuclei cosiddetti familiari insomma perché quelli sono ovviamente il futuro e quindi su quello noi dobbiamo veramente crescere far crescere in maniera sana e artistica bellissimo sottoscrivo Simone ah oppure no ma come vuoi allora facciamo concludere Simone no sottoscrivo assolutamente l'arte tutte le sue espressioni a partire dalla scuola perché come gli artisti bambini quando sono rispettati nelle loro espressioni sono davvero come dire liberi e coraggiosi e fanno tanto no restituiscono tanto la stessa cosa poi fanno gli artisti quando sono adulti perché poi oltretutto lo fanno per scelta però la differenza è quello di essere più responsabili cioè io parlerei tanto alle mie colleghe e ai miei colleghi nel prendersi la responsabilità con coraggio come diceva Ada e anche perché giustamente tu hai detto non è facile no perché gli artisti non sono mai stati comodi certo dobbiamo sono d'accordo nell'avere per esempio una base un reddito per carità perché dobbiamo avere quella libertà di non rischiare di non mangiare morire di freddo esatto però però prendersi quel rischio senza avere scadere nella semplicità nella facilità per cui dico ok scelgo di fare Pirandello perché Pirandello va sicuramente no sbiglietterà ma non c'è niente di creativo non c'è niente di veramente rischioso o di responsabile e coraggioso e poi mi viene anche da dire un'altra cosa tanto voglio dire tanto non ci non ci non ci fermerete nel senso che ci sarà sempre qualcuno nella sua stanzetta sulla scrivania la propria scrivania a scrivere una poesia anche se non diventare un poeta è insita nella natura umana questa ricerca di qualcosa che non è sconosciuto di qualcosa a cui non sappiamo dare una risposta e la cerchiamo collettivamente nell'arte essa sia veramente anche una bella fotografia fatta da un bravissimo fotografo o un bellissimo brano che può essere di Beethoven come può essere di Ada Montellanico cavolo quindi quindi sì però io parlo ai miei colleghi e dico ok se vogliamo tornare al centro però prendiamoci il centro con responsabilità e studio e ricerca e serietà torniamo un po' di serietà prendiamoci sul serio prima di tutto noi gran finale Simone allora prima di fare pubblicità al film è richiesta perfetto no ecco questo discorso della poesia secondo me è centrale ecco io ecco diciamo da persona dello spettacolo non sono un passatista non posso esserlo e anzi sono molto curioso anche delle possibilità tecnologiche per raccontare le storie però ecco se vedo come in qualche maniera le piattaforme le serie hanno un po' indirizzato il gusto penso che è in una direzione diversa dalla poesia nel senso che sono prodotti di grande intelligenza a volte anche geniali ma tutto sul lato verso la perfezione è come se appunto sono no non c'è una possibilità di un tempo interno delle opere delle immagini perché non è produttivo e quindi tu chiaramente devi fidelizzare l'utente e quel tempo interno non funziona ecco però ecco senza essere passatista perché poi appunto magari invece capitano delle cose anche sorprendenti quest'anno su Netflix c'è stata una serie che si chiama Ethos che è veramente bellissima è proprio di un livello superiore ma è proprio un'altra cosa è un altro linguaggio e quindi apre la possibilità di raccontare delle cose in maniera diversa perché se no dall'altra parte ti mettono bella ciao sulla casa di carta e tutta la gente di sinistra la condivide su Facebook ecco quindi sei fregato quindi ecco io penso questo sicuramente che questa dimensione di un tempo interno di una profondità delle immagini di una complessità questa va verso la poesia la perfezione no ecco e lì secondo me c'è una carenza se non apre dopante cosa che invece l'arte fa si è dopante nel senso che poi comunque sceneggiature eccezionali scritte a 12 mani chiaramente arrivano a un livello di perfezione di intrattenimento veramente sublime però è intrattenimento sublime che è una cosa diversa dal rapporto che uno spettatore fa con un'opera e che magari non sempre però appunto cioè io ogni volta che leggo un libro vado al cinema vedo uno spettacolo sento un pezzo io spero che mi cambi la vita ecco cioè questa speranza ce l'ho sempre e poi a volte capita a volte non capita però questa speranza ce l'ho sempre in altri contesti no cioè lo vedo già senza speranza che la mia vita sarà diversa e invece per il film no ecco beh il film appunto si chiama Nessun nome nei titoli di coda è un lungometraggio documentario che racconta diciamo un personaggio del sottobosco del cinema italiano che però ha lavorato con tutti i più grandi e dopo che è andato via diciamo che sono chiuse le sale vabbè ha girato un po' di festival poi fortunatamente diciamo da dicembre è stato preso su Amazon quindi si trova e quindi per chi ha Amazon Prime ma soprattutto per chi non ha Amazon Prime perché è ribelle pure ad Amazon e fa bene magari lunedì sera il 22 su My Movies alle 20 lo danno gratuitamente il documentario quindi c'è l'isola del cinema che non l'hanno fatto dal vivo lo fanno su My Movies e c'è una serie di lavori c'era oggi l'ho letto oggi questa volta e invece no queste immagini che state vedendo invece sono di un lavoro che sto facendo adesso sulla compagnia teatrale del centro diurno e vediamo va bene guardando il futuro allora io vi volevo ringraziare ringraziare tutti e intanto dare un anticipo del prossimo venerdì che è un venerdì molto molto importante e che ci fa battere il cuore perché è un autore molto caro a tutti noi e un amico Fulvio Iannaco la casa edificia Latino d'Oro edita di nuovo il bellissimo Egel in viaggio da Atene a Berlino vorrei ringraziare Maui e l'associazione Amore Psiche per le riprese internet e come dire facciamo il colore è rosso il mio nome è rosso questo è il segno degli artisti quindi qualsiasi persona si sente artista non solo che lo è secondo me può fare adottarlo a presto ciao a tutti ciao grazie 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 grazie